Ciao a tutti galassie! Oggi siamo su Roblox e oggi avevo voglia di portarvi Roblox quindi oggi vi porto Roblox Siamo su Sharkbite che è uno dei miei giochi preferiti... stai calmo... uno dei miei giochi preferiti di Roblox E quindi oggi siamo su Sharkbite Non ci credo avevo l'8% di possibilità di essere squalo Sono squalo ma non è possibile! Non è possibile! Io mi immagino le persone che avevano 20% dicono oddio sarò io lo squalo No! Volevi lo squalo sarò io! Eccomi! Sì! Oh mio Dio! Ecco lì già c'è una barca! Andiamo sotto! Paura 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 paura! Non la vedo! Eccola! Oddio per pochissimo! Madò! Sto video me lo censurano! Qui non c'è nessuno! Oddio! Non ci credo! Ho ucciso tutti! Mi sento male! Cosa dicono in chat? Ah niente! Mi sento male! Allora andiamo in team! Facciamo una battaglia da soli! Adesso vedo se qualcuno mi invita! Se no resta nella mia barca rosa! È bellissimo! Qui non si sa chi guida! Tutti seduti? Ah no! Vabbè guido io! Guida uomo guida! Aspetta prendo l'arma! Perfetto! Il Titanic si deve levare! Ci siamo schiantati! Non appena abbiamo iniziato! Oh mio! No! 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 Ci siamo schiantati! No! Il Titanic! Era tutto previsto! Ci stanno ospitando! Attenzione! Ci stanno ospitando! Adesso ti prego! No! Non parti adesso! Madonna! No! 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 Perfetto! Vai! Guarda che bello che è! Sembra un salto di un delfino! Che però così tanto delfino non è! Quindi siamo 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 morti! Siamo siamo morti! No! Aspetta! Oddio! Forse no! Forse no! 5! 4! 3! 2! 1! Oddio! Oddio! Non sono morta! Cioè lo squalo era qui! Poverino! Chi era lo squalo? Ah! Era... Eh... Q! Ma 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 ma! Q! 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 V! 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 Qua! Nooo! Non voglio diventare squalo! Adesso lo squalo sono io sono sicura! L'ho detto! L'ho detto e sono diventata squalo! No! Non ci credo! Non ci credo! Sto piangendo! Sto piangendo! Sto piangendo! Ma perché? Di nuovo! Che s... No! No! Boom! Bitch! Oh! Ma dove sono? Ok! Adesso siamo su Granny! Perché mi piace veramente veramente tanto questo gioco! Ecco! Yeee! Allora! Io... Oh! Ciao! Oh! Ok! Qui c'è il cacciavite subito! Eh... Ok! Accetto questa richiesta! A caso! Vai! Ehm! Andiamo! Prima di tutto! Quello l'ho preso! Vado! Qua! Che c'è la... La waykey! Chi? Come la volete pronunciare! E poi mi alzo un attimo! Ciao! Ehm! Qui ci dovrebbe essere perfetto! Oddio! Cosa ho fatto? Scusatemi! Gne! Ehm! Questo! E apro questo! Dove trovo questo? Oddio! No! Dove trovo questa? Poi vado... Qui? Ok! Qua... Dov'è Granny? Boh! Vabbè! Qui c'è la cosa! La chiave per... Il... Quello... Quel coso lì! Insomma! Non so come si traduca! Cioè! Tanto! Playhouse è la casa... Dei giochi! Però quella non è una casa dei giochi! Oh! Io lì... Non ci vado! Che fai? Mi segui? Aspetta! Andiamo qua! Voglio vedere se mi segue! No! Ok! Scusami! Pensavo mi seguissi! Come sono aggrappata! Ma scusatemi! Oh no! Oh no! Oh no! Allora facciamo... Oh mio Dio! Basta! Ehm! Dov'è? Ecco! Questo! Prendiamo questa! Che è la safe key! La prendiamo e usciamo! Ma cosa stai facendo? Non dovrebbe passare lì! È un bug! Granny! L'ho tirata! Mi sono chiusa dentro Allora, vediamo La master key ce l'ho Martello Madonna santa, mi sono spaventata un botto Ti odio Oddio, forse possiamo uscire Stai zitto Stai zitto, la chiami Non ci credo Non ci credo, sono scappata Oddio Yeee Sono scappata Bella Siamo scappate dalla casa di Granny Papapero Togliti Dicevo, papapero L'ultimo gioco che oggi volevo provare Cioè non provare, perché già li avevo già provati Comunque L'ultimo gioco che faremo oggi è zombie rush Zombie rush E voglio vedere come me la cavo Perché da un botto che non c'è Oddio, ma che salti c'ha Oh mio dio Oh mio dio Devo assolutamente abbassare il volume Oh mio dio Ne avevo uno dietro Due Tre Oh mio dio Ma che Poverino Questo qui era Tipo Quanto mi ha tolto Ah, quello è un player Io non capisco perché i player Devono ritrasformarsi in zombie Una volta morti Cioè io cosa gli ho fatto? Perché mi devono Acciuffare Oh mio dio Ma basta Ma perché mi rubano le kill Mi robano le kill Hashtag robano L'hashtag pazzo di oggi sarà robano Anche se già so che quando Quando caricherò il video Me lo sarò già scordato Però vabbè Quanti sono? Quanti sono? Oh mio dio No Eccolo il player Ah ok È morto da solo Non si sa come mai Oh mio dio Quanti Ok Adesso rubo le kill A questo che prima Me le ha rubate Anzi no Me le ha rubate a me Oh mio dio Oddio Livello 300 Mi sento Mi sento nerd Mi sento Allora Vediamo che arma Ho sbloccato Ops ho sbagliato 300 Questa Secondaria Ah Sempre questa Ok E niente Sono morta Indovinate Per un player No E devo capire Sta roba dei player Veramente Se voi siete Uno di quei player Siete delle brutte persone Con la z Va bene carassi Io però Concluderei qua L'episodio E quindi Ciao galassi Grazie a tutti Grazie a tutti